Il suo nome è Vanda Grus, è tua zia. Dovresti conoscerla prima di prendere i voti. È la tua unica parente. Sono tuoni so che sei. Sei una suora ebrea, non te l'hanno detto? E non ti hanno detto chi sono, che cosa faccio? Hai mai avuto pensieri peccaminosi? No. Hai idea dell'effetto che fai sugli uomini? Chi sei tu, veramente? Una donna che ha condannato a morte degli uomini. È un peccato. Non dovresti tagliare i tuoi capelli. Rimanete con me perché adesso passiamo alla notizia di oggi. Allora, sembra proprio che Jason Statham non farà parte del cast di The Transporter 4, 5 e 6. Sì, almeno per ora non lo vedremo nei panni di Frank Martin. Al suo posto sarebbe stato scelto l'attore britannico Ed Screen, meglio conosciuto come Daario Naharis della serie HBO Game of Thrones. Proprio lui. Il nuovo film sarà un reboot e attingerà la storia originale, dando però più profondità al personaggio di Frank Martin, e esplorando il rapporto con il padre. La regia è affidata a Camille Del Mar. The Transporter 4 uscirà al cinema nel 2015. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, mettete un mi piace sulla nostra pagina Facebook, Anteprima Cinema. E noi ci rivediamo al prossimo video. Grazie, ciao!